Guarda, guarda Dani! Allè, 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 allè! Guardali Dani! Gialli! Porca miseria! Porca miseria! Quanto male? Aspetta qui che c'è male! Due secondi! Quanto male? Qual è l'anno senta? Sì! Hai visto che carino che ha aiutato il compagno a ripartire? Sì! Guardi, guardi, guardi! Ora dobbiamo riparare, sennò dobbiamo fare un secondo qui!